Noi siamo qui nel territorio della parrocchia di Piedimonte e nella zona di Lozzole. Questa era una casa ronare, un'ex casa contadina del 1600 che è stata ristrutturata, però è stata ristrutturata mantenendo totalmente le sue caratteristiche, sia esterne che tetto a lastre e quindi sono quell'essenzialità per non disturbare l'ambiente, per non sciupare quello che è il patrimonio locale delle case rurali. Il mio bed and break viene scelto sia dalle persone che cercano relax, che cercano riposo, persone invece che amano le attività sportive e persone che invece anche vogliono trovare un po' quella quieta e quel silenzio per internarsi maggiormente in quelle che sono attività culturali, attività di studio, attività così più proprie della professione stessa loro. Il nostro territorio dà la possibilità di fare percorsi trekking, percorsi trekking a cavallo, percorsi mountain bike, abbiamo qui localmente anche le strutture di Nordicolkine, infatti il mio bed and breakfast dispone di racchette per fare lo sport, questa attività sportiva. Poi abbiamo in paese la piscina comunale, abbiamo tante cose, infatti esistono anche queste convenzioni che il mio bed and breakfast mette a disposizione del cliente con anche la piscina comunale, quindi chi vuol fare attività così più di relax in piscina lo può fare.